il roma io ho un concetto un'altra un come se la partita è proprio un po' di più ci sono state buone cose in un lato più effettivo in un lato più effettivo in certi frangenti che ha fatto molto a bianco in un lato più effettivo come vedi la crescita della tua squadra non si sa che non si sa che in un lato più effettivo diciamo che in difesa ci manca sempre quella dichiarità si è vero anche questa sensazione perché a volte definiamo anche le delle poi definiamo magari il quattro diciamo che lui ci tormenta quindi lui malifica il numero di altri di altri quattro e poi abbiamo dei commenti dobbiamo dire che abbiamo deciso delle pause che fanno rientrare gli altri partiti oppure fanno rimanere magari si potrebbe cercare di dare lo strappo invece si prende un panzellino e che si fanno un po' di disattenzione questo è un po' quello che è successo nel precampionato e che oggi più o meno la partita secondo me è andata per come è andato il nostro precampionato e dobbiamo crescere se ci riusciamo in tempi rapidi riusciamo a dire la nostra se no ci riusciamo in trasferta e che magari anche con i squadri eh posti che ci mettono nelle mani addosso se la partita e quindi ci sono visto come è stato il campionato quindi quindi la partita come incontro il video di Coppa che è stato un po' il siglo di questa di questa piccola che abbiamo cambiato non c'è tipo questo problema è cambiato questo problema è cambiato poi per il resto questo intacco non è mai stato un problema o quando l'è stato o è stato treco dunque non c'era sempre da un fatto che indietro non c'era la mano quindi credo che portarlo la procedura scientificamente dà l'impressione che qua deve avere ancora più giaccia da giocare no? in affatto sarebbe più posizioni e di avere ancora più punti nelle mani addosso in mano no? almeno 8 o 9 giocatori qua che non fai 2 minuti e la due giocatori quindi probabilmente la tua possibilità c'è almeno neanche un giocatore ma la tua mano comunque io neanche un giocatore se la prima aveva passato il punto la tua mano però al fine della quando abbiamo avuto i miei rotatti del Gironi che ho chiuso un giocatore per cui lo spazio che l'ingue e l'attacco aveva trovato le sue ascoltimine secondo me sì probabilmente è vero probabilmente se è possibile questa squadra ha ancora più talento ancora più possibilità in modi diversi diciamo magari l'anno scorso di dare una palla in più o in basso o lungo non se ne parlava perché ce n'avevamo senza l'argomento che non era di ruolo che trovare stanno in più però voglio dire una somma finale uno scorso passato mi sembra 23 con oggettivi sui vari punti di media e chiederei però una squadra però sicuramente è una squadra meno gariliana rispondevano uno scorso sì sì ci vuol dire meridiane però non c'è più cardinale compagni dei tempi di oro tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni si deve dire se come sa che passa il problema sicuramente è tutto le possibilità non diventeremo non diventeremo mai una squadra di diversi questa volta la sicuramente la mia pretesa c'è la mia pretesa di signora che quelle persone caratteristiche tu sei l'ultimo però sicuramente ci può fare dentro se passa il messaggio che non è sufficiente essere belli in realtà o pearsi della nostra bravo e perché poi con la giornata va ai 30 punti infatti martedì con loro ho detto abbiamo avuto la risposta alla nostra domanda che era una domanda cioè la mia domanda che aleggiava da 40 giorni quale succede quando facciamo a 70 punti ne passiamo a fare a 69 gli altri poi ne prendiamo sempre 80 la risposta è io per esempio 80 ne ho fatto 68 vedete quando si potrebbe fare quanto riguarda se riesci a passare il messaggio che bisogna migliorare anche dietro avere più continuità avere più coesione tra i lunghi piccoli oggi secondo me nel terzo quarto cinque minuti andiamo dietro 35 sia anche lì comunque l'impressione è che il reparto lunghi più forte della portare colivese ho due lunghi che si sa sempre ho due lunghi che si ha troppo che è più buono ma si racconta che so avver una guardia so avver una guardia con un po' un po' un po' che non è un giudice 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 diciamo che noi abbiamo tante possibilità di giudicare di giudicare di due ruoli quindi la possibilità di giudicare su un terzo per la parte di giudicare e delle le